ragazzi caduto facebook caduto instagram caduto whatsapp si cade si cade ma io d'altronde l'ho sempre sostenuto la cosa migliore è imparare a cadere perché poi diciamo il problema non è la caduta il problema è rialzarsi quindi io lo vedo comunque sempre come un'opportunità di cambiamento e quindi vediamo cos'è che non funziona vediamo quanto siamo collegati a queste cose quanto gli permettiamo quanto potere noi permettiamo a queste cose effettivamente torniamo alle priorità a cos'è più importante questo è questo per me è un movimento un momento veramente bello sarà che sono abituato a cadere ripeto però bello perché comunque apre le porte al nuovo forza alla prossima